Musica Kannon va da Sanders che mette palla a terra, vuole tornare da Kannon, stoppato da Olaz L'ultimo minuto, 11 di vantaggio per R R da Roma, Ueh La rubata di Olaz, Ueh Chichetti un po' battezzato da Fekker che riconcede il tiro, lo sbaglia l'ala dell'Uropasket Transizione con Panni che riceve da Velkato, Keisbrook nell'angolo, vuole andare a cercare la posizione profonda Per lo stesso Oxilia, blocco di Gibbons, ottiene il cambio Oxilia che vuole andare come da Gibbons, in post contro Stapieri, ci sarà il raddoppio Che arriva di Magro, non è pulita, la palla è in uscita, la tocca a Fanti che poi la recupera Può correre Olaz che va a schiacciare Nel primo periodo, da Bussetto, Idioccia sa, sempre cicchetti con lui, taglio di Bussetto Giamal, Olaz che accoppia, Graziani, batte e Stapieri, arriva Giamal Olaz where Giamal, Olaz che accoppia, Giamal e recupera lui, Cicchetti, perfezione abscesso ancora per Roma Il taglio che accoppia a lui, Cicchetti, che va nel traffico, che arriva ancora per Evers Cicchetti, ad avere tutti contro gli annunci che lo giuro Va a costiarsi Giamal Olaz, viene col corpo e gli ruba la palla Già otto i punti firmati da Jalen Kedon Ancora zona per l'Eurobasket Cazzotti cambia lato per andare da Stupiders Che ancora cambia lato Mascolo vuole attaccare l'aria Anche la grande anticipo di Olaz Metri, l'errore Il rimbalzo di Peppere che spinge la transizione per Taylor L'ha stoppata 15 a 9, era più 6, il massimo vantaggio Lui, adesso la possibilità di migliorarlo Ancelotti ancora un passaggio destinato 4-9 4-0-3 Rebez fa A cambiare Bucarelli per evitare il pitcher roll Gioca due, il muro, il muro Baldasso la vuole Olaz e Werra Recupera la sfera Fara l'altra parte Inchiada la schiacciata Due